Finanziata per 100.000 euro la mensa scolastica del plesso di Contrada Fiumara a Piraino. Il comune pirainese aveva partecipato all'avviso pubblico per la messa in sicurezza e la realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell'ambito del PNRR. Era un nostro obiettivo programmatico che era quello di riuscire a gestire in house il servizio di refezione scolastica. Era uscito qualche mese fa questo avviso del Ministero dell'Interno e della pubblica istruzione, del MIUR, che mirava proprio al potenziamento dell'orario scolastico e alla realizzazione delle mense. Abbiamo deciso di partecipare. Il nostro progetto è stato ammesso e quindi sono stati finanziati questi 100.000 euro che ci consentiranno di realizzare un punto di cottura nel plesso scolastico di Fiumara che vedremo di come organizzarlo affinché possa servire tutte le scuole, i plessi scolastici del nostro comune. E di questo siamo molto contenti anche. Non solo questo, anche diversi progetti che riguardano l'efficientamento energetico. Sì, abbiamo partecipato al bando, anche un altro bando uscito qualche mese fa, che riguardava la manutenzione e l'efficientamento energetico degli edifici comunali. Siamo riusciti a intercettare circa 700.000 euro. Siamo in attesa di avere l'esito di un altro progetto che abbiamo inoltrato sempre partecipando a questo avviso. Siamo riusciti a intercettare anche quasi 300.000 euro per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. E siamo in attesa di avere anche il risponso di altri progetti con cui abbiamo partecipato ad altri bandi che nel tempo, in questi sei mesi della nostra amministrazione, rispetto ai quali abbiamo partecipato. Un finanziamento importante anche per la strada di Calanovella. Sulla strada di Calanovella siamo molto contenti perché siamo riusciti a intervenire in tempi veramente celeri, ripristinando un po' la sicurezza. Infatti abbiamo mitigato il rischio. I lavori ancora non sono del tutto ultimati, però siamo a buon punto. Siamo riusciti a ottenere questo finanziamento di 200.000 euro da parte del Dipartimento regionale di protezione civile. Proprio in questi giorni abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo con i tecnici del Dipartimento regionale di protezione civile. A breve avremo notizia della corresponsione. Ci verranno assegnati altri 200.000 euro che ci dovrebbero consentire un intervento anche sulla frazione di Zappardino.